La parola di Dio, la capacità di ascolto, la capacità di verificare la propria maturità affettiva come aiuto nel cammino di discernimento e quindi nella capacità di saper riconoscere i segni di questo discernimento. Riconoscere è un primo gradino della scala del discernimento. Ma attenzione che vi è un altro compagno che ci aiuta veramente a riconoscere dentro, a camminarci dentro, a sentire le vibrazioni dei desideri che abbiamo dentro, ed è il silenzio. Il silenzio, certamente, come ci dicono i giovani nel documento in preparazione al sinodo, il silenzio è faticoso. Loro parlano di fatica nel silenzio. E oggi, più di ieri, vivere il silenzio è faticoso perché nulla ci porta a riuscire a fare silenzio. E il silenzio, nell'ambito del discernimento, non è un isolarsi, non è un chiudersi al riccio per difendersi, perché si ha paura. Il silenzio è un vero e proprio, direi, luogo in cui io mi confronto con la parola di Dio e mi confronto con me stesso, con le mie ricchezze, con le mie debolezze, con le mie fragilità, con le mie potenzialità, e mi confronto con i miei desideri. Questo è importante, il silenzio, ed è faticoso. Tante volte noi consigliamo a chi deve decidere, a chi è in un momento di difficoltà interiore, di confusione, di fare silenzio, cioè di andare in un posto dove poter pensare in serenità, chiaramente, è potersi confrontare con chi è esperto e con chi ha il dono del discernimento, perché non tutti abbiamo il dono del discernimento, cioè tutti dobbiamo e possiamo in un certo senso discernere, ma non sempre da soli. Il più delle volte occorre essere aiutati nel discernimento, occorre confrontarsi con la parola di Dio, quindi con Dio, e poi con gli altri, con le persone che hanno il dono di aiutare a scegliere, di aiutare a discernere. Ed è importante questo perché, e voglio rileggervi quello che già vi ho letto qualche giorno fa, un passaggio del documento dei giovani in preparazione al sinodo. Si tratta di un passaggio fondamentale, questo di fare silenzio, nel percorso di maturazione personale, in particolare per i giovani che sperimentano con maggiore intensità la forza dei desideri e possono anche rimanerne spaventati, rinunciando magari ai grandi passi a cui pure si sentono spinti. Dobbiamo aggredire le paure nel silenzio perché aggredendo la paura o le paure noi possiamo fare i grandi passi che tutti vogliamo e desideriamo nel nostro cuore. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!